Gianluca Alfonsi, tecnico della nuova Tor 3 Teste, dopo questa vittoria 4-1 contro l'Ostiamare. Mister, non era facile oggi, l'Ostiamare era una squadra in forma e che poteva crearvi qualche difficoltà, lo ha fatto perché poi hanno pareggiato quasi prima dell'intervallo, siete stati bravi però a fare vostra la partita. Sì, come ho detto poco anzi al tuo collega, abbiamo dato seguito, secondo me, sia nella prestazione che nel risultato, nella ricerca del gioco, nella ricerca di determinate situazioni e di provare e creare in continuazione questo alla partita della scorsa settimana con il Tor di Quinto. È una gara che, a parte l'episodio, come hai detto tu, del gol venuto da una palla inattiva, che dal punto di vista del risultato e poi, conseguenzialmente dal punto di vista mentale, poteva creare qualche piccolo scompenso, è stata una gara, secondo me, quasi sempre, presto che sempre, appunto, in pieno controllo. Siamo stati bravi a riprenderci subito dalla parte nostra il risultato. Abbiamo sbagliato, secondo me, qualche situazione di troppo che poteva rendere la partita un po' più agevole, magari un po' prima, no? A livello temporale, dove poi magari si è appianata 3-1, 4-1 nei minuti finali, però sono soddisfatto. Ci siamo ripresi, appunto, da questo periodo che ci ha portato a mettere un po' in discussione il terzo posto, che prima magari sembrava un qualcosa di scontato. Però, come dico ai ragazzi, adesso ci aspettavano 7 finali, con la partita del Tor di Quinto che abbiamo passato. Questa 6, ne mancano altre 5. Ci andiamo a prendere quello che è il nostro e poi le squadre servono in forma a maggio. Ecco, mister, il fatto che questo periodo, tra virgolette, un po' negativo abbia coinciso oggi, si sia fermato oggi con il pareggio dell'Accademia, può farvi, insomma, ritornare a, diciamo, a sperare e a essere convinti di arrivare prima dell'Accademia e quindi di arrivare terzo? Ma noi siamo sicuri dei nostri mezzi e siamo convinti, perché ci siamo guardati, ci siamo confrontati negli spogliatoi, e siamo convinti che ce la faremo ad arrivare terzi. È normale che poi, nel testa a testa, siamo contenti per il pareggio dell'Accademia, perché magari ci dà un piccolo break di vantaggio, essendo a favore lo scontro diretto, e adesso in vantaggio di due punti ci siamo conquistati questo piccolo break a 5 giornate dalla fine. Ma come dico sempre ragazzi, gli altri hanno per noi un'importanza secondaria, perché poi gli artifici del nostro destino dobbiamo essere noi stessi e lo dobbiamo avvalorare vista l'importanza della posta in paglio in queste ultime 5 sfide che ci mancano. Le affrontiamo come 5 finali secche, una gara alla volta, cercando sempre di trovare appunto risultato e prestazione.